Quando un genitore mi dice, guardi che io non ho fatto mai mancare niente a mio figlio, esprime la sua totale idiozia, perché il compito di un genitore è far mancare qualcosa, perché se non ti manca niente, che ti serve la curiosità, che ti serve l'ingegno, che ti serve il talento, che ti serve tutto quello che abbiamo in questa scatola magica, non ti serve niente, no? Se sei stato servito e riverito come un piccolo lord rimbecillito in un divano, in tutto e per tutto ti hanno svegliato alle sette meno un quarto della mattina, ti hanno portato a scuola, ti hanno riportato a casa, ti hanno fatto vedere immancabilmente Maria De Filippi, perché non è possibile perdersi una puntata di Uomini e Donne, perché sapete che è una cosa pedagogicamente brillantissima, ma una cosa di buon senso, una, il coraggio di dire di no, il coraggio di bocciare. Io ho sfiorato mille volte la bocciatura finale, una volta riuscii a prendere anche uno in matematica, vedete io me ne ricordo 50 anni dopo l'uno in matematica, e non mi ricordo le centinaia di volte che mi hanno dato 6, perché il 6 non dice niente, è sciapo, è mediocre, l'uno fantasma, me lo disse mio padre quando tornai a casa, papà ho preso una in matematica e lui pensavo che avrebbe scatenato gli inferi, non so che cosa sarebbe successo a casa mia, e invece lui mi disse fantastico, quattro lo prendono in tanti, e invece uno non l'avevo mai sentito, e quindi c'hai un talento figliolo. E poi con il suo, passava dall'ironia alla parte più seria che era quella di dire, c'hai tempo fino a giugno a tirarlo su, se no per te sarà una gran brutta estate, fine, più parlato, perché lui credeva in me, e quando credi in un ragazzo non lo devi aiutare, se è bravo ce la fa, perché lo dobbiamo aiutare? Io aiuto una signora di 94 anni a attraversare la strada, ti mancherebbe altra, la metto sotto braccio, passiamo dall'altra parte, perché devo aiutare uno di 18? Io al massimo gli posso dire sei connesso, perché questo è fondamentale, sei connesso. Bene, questa è una strada, ciao, tanti auguri per la tua vita. Si raccomandano le persone in difficoltà, non i figli. Perché devi raccomandare un figlio? Perché non ce la fa? Da solo? Senza la nostra telefonatina? Che messaggio diamo? Eh? Siccome tu non ce la fai, per fortuna ci pensa papà. E infatti ogni tanto anche in italiano ci sono delle cose che sono veramente terrificanti. Io tante volte ho sentito dire da un genitore, io devo sistemare mio figlio. Sistemare. Ragionate, sistemare, come un vaso cinese o una bottiglia di rosolio. Dove lo sistemi? Dentro la vetrinetta? Sopra l'armadio? Hai messo al mondo che cosa? Un oggetto? O hai messo al mondo un'anima? E se hai messo al mondo un'anima non la devi sistemare. L'anima va dove sa andare. Noi dovremmo fare un altro mestiere, che è quello dei sovraintendenti, dei capitani. Capitano, mio capitano, il più grande film sull'educazione che sia mai stato fatto. Ma il capitano non chiede permesso, il capitano non è democratico per niente. Educare non ha nulla a che fare con la democrazia. Dobbiamo comandare noi, perché loro sono più piccoli e noi dobbiamo comandare. Perché avete mai visto in uno stagno un'anitra con gli anatroccoli dove stanno? Dietro. Avete mai visto un'anitra con tutti gli anatroccoli davanti? È impossibile, è contro natura. Perché le anatre sono intelligenti, noi meno. Un genitore è un istruttore di volo, deve insegnarti a volare. Non è un ricattatore. Non è uno che spera che tu rimangi in casa fino a 60 anni, così diventi finalmente una specie di badante gratis degli anziani, genitori. Questo è l'egoismo, c'entra niente con l'amore. L'amore è vederli volare, andare a fare qualcosa. Telefonata dall'italiano medio al figlio in Erasmus. Prima domanda. Fa freddo? Perché Erasmus si svolge solo in paesi artici, come voi sapete. Quindi è molto giusto chiedere se fa freddo, perché qua non fa mai freddo. Seconda domanda fondamentale. Cosa hai mangiato? Ma perché siete così? Perché siete così cattivi? Già ne facciamo pochi di figli. E quei pochi li distruggiamo? Perché non parli con tuo figlio di felicità? Perché non chiedi, stai godendo come un riccio? Perché bisogna godere nella vita. Non è mica una roba brutta godere. Vuol dire che c'hai un'idea, c'hai una fantasia, c'hai un sogno. E ci stai correndo dietro. E se il tuo grande capitano ti dice Vai, figliolo, vai. Che te ne frega del toast.